musica musica guarda la fattura a te spiega cosa stai facendo qua tra poco andiamo a registrare la nuovissima canzone e mille rosse mille rosse da Daniele Marino dìala che sei la polpettina Daniele Marino stai incominciando che dici? un lavoro a noi eh dimmi noi due siamo qui con il canger è una bellissima vediamo cosa c'è ora un saluto Carlo un saluto un saluto Black Stage vuoi salutare? ciao un violinista Ragazzi ci troviamo in una location Qua c'è Manuel Valenti Il manager di Daniele Vuoi spiegare dove ci troviamo? Ci troviamo in un posto che si sente Mamma mia! Guardate gli affretti Mamma mia ragazzi Abbiamo Mario Salerno Direttamente da Mazzara del Vallo Guardate che giardino Il mio universo è il tuo mondo Ti sto facendo poter Il mio universo è il tuo mondo Il mio calore sei te Lo studio editing è sempre al top Il mio universo è il tuo mondo Lo stanno a poco più te Il mio universo è il tuo mondo Guardate che abiti Guardate qua ragazzi Amma mia Il mio calore sei te Il mio calore sei te Ecco Il mio calore sei te Tu sono tutti Presidente vuole salutare? Presidente non vuole salutare. Non mi riprende le proprie. Daniele marito. No, è solo profumo.